La famiglia è di aprire, di fare qualcosa, di prendere il casco, di trovarti... L'unica cosa, me devi lavorare solo su una cosa, me devi lavorare, perché devo lavorare con questa cosa, dopo lavorare con tutti che... Questa è l'unica cosa che... Eh... No, l'ora devi rizzicare, infatti io non ti ho detto, non ci sono dei richiamati... Ti ho dato... No, no... Oh, lo sai il potente, lo sai il potente, ma no... Anche... Certo, pensavo che l'ho caricato già prima, perché il... Il cuore di quest'anno lo fai andato... Quindi, il 22 del senato è molto interessante... Questo al tram viene il giornato... Un'ora 21 passa... A 30... E a 30 sono 10 ingressi, che sono le altre tre partite... A 33 sono altre quattro partite... Quindi ci sta il tempo per ragionare, eh... C'è la carta, c'è la carta a piano... Vabbè... Ti saluto... Vabbè... 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 Vabbè...